cosa ma è bellissimo è tipo il sogno della mia vita ma dove ho messo i miei calzini tanto non saprà mai che sono stata io ehi guarda che posso sentirti cosa puoi sentirmi sì per oggi ho questo potere quindi stai attenta cosa ne pensi di un po di attività fisica ormai non riesci neanche più a fare le scale dai lo sai che sono pigra e poi amo mangiare in effetti hai preso tutto dalla padrona oggi che puoi sentirmi posso raccontarti una cosa dimmi tutto quando ero una bambina mi sono persa in un bosco sono finita nella trappola di una strega cattiva mi ha fatto una maledizione e mi ha trasformato nel suo gatto io sono riuscita a scappare e sono arrivata qui ma esiste un modo per spezzare questo incantesimo l'unico modo per spezzare la maledizione e sacrificare qualcuno